Beh, non ti faccio. Bisogna andare avanti. Sarà un successo straordinario. Come nel Reich milenario si toglieva la sicura soltanto il suono della parola cultura, oggi invece si mette mano al portofoglio. Vaffanculo! A te e alla tua banda di nazisti, borghesi e repressi sessuali! Siete psicopatici. Perché le capre che russano lì su queste colture sono senza speranza. I soldi? Ve li scordate se non fate quello che mi dico io, è chiaro? È tutto morto qui dentro. Ma voi non sapete neanche che cazzo è il teatro? Il signore in questo stato? Sono tutti morti. Chi ascolta? Chi parla? Jimmy Mahoney! Sei condannato a morte per mancanza di soldi! Chi vuol vedere vita? Arac Galapawale! Eriji! Dove ho'